Beh, inizio settimana si vedeva che la squadra ha accusato il colpo, perché è normale, fisiologico, non sarebbe da persone, da un gruppo che ci tiene tanto in quello che fa, perché noi viviamo di questo, viviamo del nostro entusiasmo, viviamo delle nostre emozioni, della voglia che hanno questi ragazzi di mettere in mostra le proprie qualità e quando ti arriva una sconfitta che nasce in questo modo, è chiaro che lascia degli strascichi e delle scorie, è come il carico emotivo, è come averne giocate due di partite, però la sensazione è che comunque in maniera non immediata, ma in maniera graduale si sia incominciato a smaltirla, a metabolizzarla, a far sì che sia un punto da dove poter ripartire, perché quando ci sono i gruppi totalmente nuovi si passa anche attraverso queste dinamiche nel momento in cui poi dopo deve andare a delineare anche certe leadership all'interno del gruppo, delineare anche quello che deve essere un'unità di intenti che ci deve permettere di superare tutti i momenti di difficoltà e questo è stato un'ammazzata, perché ha fatto mettere da parte quei 15 minuti, ha fatto mettere da parte tutto quello che è di buono e di tanto buono era stato fatto fino a quel momento. Se un calciatore sbaglia una partita non lo faccio mai, fra virgolette, passatemi i termini, fuori alla prima situazione, è chiaro che poi devi dare anche la possibilità a chi si allena bene, a chi ha come alternative, a chi sta facendo vedere durante la settimana che è presente, che si può contare su di lui, che dargli la possibilità di poterlo far vedere non solamente all'allenatore o ai compagni, ma poterlo far vedere anche pubblicamente attraverso la gara. Noi la vogliamo scansare la buccia della banana, perché il rischio non lo vogliamo correre, però c'è sempre un avversario da rispettare, c'è un avversario che sicuramente avrà delle difficoltà se ha questi numeri, però l'errore in assoluto più grande che si possa fare sarebbe quello di sottovalutarlo. Dobbiamo avere la maturità, la testa e la voglia di dover fare la partita giusta con grandissima intensità, con grandissima applicazione, perché ci possa permettere di lasciarci definitivamente alle spalle la trasferta di Cremona.